un po' troppo di olio secondo i miei gusti però mi piace perché non si si sente distintamente sia il latte che l'olio secondo me è una idea strana sicuramente di base però è particolare e secondo me può piacere molto più agli stranieri che agli italiani a 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